Buongiorno. Ho una prenotazione a nome Smith. Buongiorno. Benvenuto al nostro hotel. Posso avere il suo nome? Sì, certo. Il mio nome è John Smith. Grazie, signor Smith. Ho trovato la sua prenotazione. Ha bisogno di assistenza con i bagagli? No, grazie. Non serve. Eccellente. Abbiamo riservato per lei una camera deluxe con vista. Sulla città. Sarà al piano 6. Perfetto. Grazie mille. La colazione è inclusa nella sua prenotazione e viene servita dalle 7 alle 10 ogni mattina. Molto bene. Grazie. C'è altro che devo sapere? Abbiamo anche un servizio di pulizia giornaliero e un minibar nella sua camera. Se ha bisogno di qualcosa, non esiti a chiamare la reception. Ciao, vorrei fare il check-out. Per favore. Certamente, signor Smith. Posso avere la sua chiave della camera? Ecco la chiave. Il mio soggiorno è stato molto piacevole. Grazie. Siamo lieti che si sia trovato bene. Se avesse suggerimenti per migliorare il nostro servizio, saremmo felici di sentirli. Ciao, ciao. Grazie a tutti.